Il procedimento giudiziario scaturito dall'operazione sotto scacco condotta a Paternone il maggio dello scorso anno dai carabinieri della compagnia paternese fa un passo avanti. In aula al Tribunale di Catania è stato il giorno della requisitoria dei pubblici ministero Andrea Bonomo e Giuseppe Sturiale con le conseguenti richieste di condanna per 36 dei 37 imputati. Il gruppo criminale alla sbarra è quello degli Assinata Alleruzzo che come sostengono gli investigatori si stava riorganizzando sul territorio grazie al lavoro di Santo Alleruzzo che approfittava dei permessi premio dal carcere per ricostituire dalle basi il clan. Il gruppo inoltre poteva contare sulla leadership di Pietro Puglisi e il clan non curava solo gli interessi di paternone, aveva tentacoli anche nella vicina Belpasso ed è qui che l'indagine ha preso una piega importante che ha fatto scappare. Alpore grazie ad una richiesta di pizzo non accettata a determinarla, la patrona dei torroncini, l'imprenditore Giuseppe Condorelli che rifiutò nettamente il tentativo di richiesta estorsiva che il gruppo criminale gli voleva imporre denunciando subito ogni cosa ai carabinieri. Per gli imputati, come detto sono 36 in abbreviato e gli altri sono stati rinviati a giudizio, le richieste di pena variano dai 20 ai 9 anni per gli imputati di associazione mafiosa. Per due posizioni meno rilevanti PM hanno chiesto una pena di meno di un anno e avanzato anche una richiesta di assoluzione. Ed eccole le richieste di condanna avanzate dai PM Bonomo e Sturiale al gruppo Barone. Si comincia con Catea Consolo 10 mesi e 20 giorni Lorenzo Di Leo 11 anni e 4 mesi Marco Di Leo 11 anni e 4 mesi Sebastiano Di Mauro 10 anni Alessandro Fazio 14 anni Michele Fontanarosa 8 anni Vincenzo Gattarello 9 anni e 8 mesi Giovanni Battista Giangreco 9 anni e 4 mesi Andrea Ladelfa 14 anni e 8 mesi Daniele Licerdello 19 anni e 4 mesi Alfio Mendolaro 9 anni e 4 mesi Francesco Mobiglia 13 anni e 4 mesi Giuseppe Mobiglia 20 anni Salvatore Occhipinti 10 anni e 8 mesi Giuseppe Orto 10 anni e 8 mesi Pietro Puglisi 20 anni Giuseppe Recca 8 anni Lorenzo Michele Schillaci 8 anni Ivan Gianfranco Scuderi 12 anni Le Ancora Orazio Sinatra 12 anni e 8 mesi Giuseppe Gaetano Sinatra 12 anni e 8 mesi Barbaro Stimoli 18 anni e 8 mesi Salvatore Stimoli 20 anni Vincenzo Stimoli Junior 12 anni Cristian Terranova 13 anni e 4 mesi Assoluzione invece per Francesco Salvatore Fallica Salvatore Stimoli 20 anni e 4 mesi Triển